Il Battesimo libera l'uomo dal peccato originale, cioè dallo stato di peccato proprio della natura umana, triste eredità della colpa di Adamo e Eva. L'uomo in Adamo aveva perso la santità, cioè l'iniziale amicizia con Dio. Il Battesimo fa scomparire in modo definitivo questa situazione. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani scrive «Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo dal peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato». La grazia del Battesimo elimina l'uomo vecchio, tuttavia rimangono nel battezzato alcune conseguenze temporali del peccato, quali la sofferenza, la malattia, la morte, la debolezza del carattere. Inclinazione al peccato che non può che causarci del danno se non lo vogliamo. Essendo questa lanciata per la prova non può nuocere a quelli che non ti acconsentono. La dignità dei figli di Dio. Il Padre ne battesimo mediando lo spirito non soltanto ci purifica da tutti i peccati, ma ci rende creature nuove in Cristo, cioè Suoi figli. Lo spirito ridona all'uomo la sua prima immagine per cui diventiamo partecipi della natura divina, membri di Cristo, coeredi di Lui, Tempio dello Spirito Santo. Di conseguenza, quando ci rivolgiamo al Padre con la preghiera del Padre nostro, lo stesso Gesù prega in noi. Per indicare la grandezza di tale situazione in cui si viene a trovare il cristiano con il battesimo, San Paolo usa il termine rivestiti di Cristo. disse, tutti voi siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poiché quando siete stati battezzati in Cristo, Gesù vi siete rivestiti di Cristo. L'abito manifesta l'identità della persona, il suo ruolo nella società e nella comunità. La veste bianca che si consegna durante la liturgia del battesimo, indica proprio questa nuova dignità. La cantela accesa al cielo pasquale significa che Cristo ha illuminato il neofita. In Cristo i battezzati sono luce del mondo. I battezzati formano un solo corpo. Lo spirito ci rende figli e fratelli in Cristo. Siamo membri gli uni degli altri. Il sentirci chiamati fratelli e sorelle, in modo particolare durante la liturgia equalistica, non incide molto su di noi perché siamo asseofatti e non cogliamo il significato. Il battesimo non è mai una celebrazione privata e quindi personale e familiare, ma una realtà di Chiesa. Il battesimo, come la cresima e l'ordinazione sacerdotale, imprime i carattere, cioè un marchio spirituale intelebile permanente. Noi possiamo tradire anche gli imprigni presi, ma nessuno ci può strappare il sigillo di figli di Dio. Neppure Dio può farlo perché lui è Dio e non uomo. Dio può solo amare. Neppure il peccato può cancellare questo sigillo indelebile, sebbene il peccato impedisce al battesimo di portare i frutti di salvezza.